Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, che affronta temi di diversità, identità e amore proibito in una società conservatrice. La trama del libro Lezioni imparate dal cuore della scrittrice Emma Donoghue, casa editrice in Audi, è la seguente. L'unica lezione che ho imparato, o comunque l'unica che ricordo, sei tu, Emma Donoghue ci consegna un romanzo coraggioso e intenso, una storia d'amore di lancinante bellezza. York, 1805. Reine ha 14 anni e Lister 15, quando si conoscono alla Men's School. In quella scuola che prepara le ragazze prima di tutto a un buon matrimonio, entrambe sono considerate diverse dalle altre. Reine, figlia di un funzionario della compagnia delle Indi e di una donna di Madras, non è bianca. Lister, dritta come un ufficiale, è così ribelle da arrivare all'insolenza. Relegate nella soffitta, lontane dalle altre allieve, Lister e Reine costruiscono un mondo tutto per loro e un sodalizio tenace ed esplosivo. Una intesa che delicatamente diventa tumultuosa storia d'amore. Qualcosa di pericoloso, proibito, inaccettabile nell'Indilterra di inizio 800 ma che segnerà la vita di entrambe per sempre. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.